A preso l'arco la freccia, una freccia d'oro e l'ha gettata contro Apollo e ha detto così, la prima creatura vivente che vedi ti innamori di quella. E ha fatto lo stesso con la ninfa d'Apne e adesso io ti getto e ti traffiggo con questa freccia e la prima persona che vedi sfuggi da quella persona. Però forse mi ha insegnato ad essere appassionata, soprattutto a essere. letterariamente appassionata. Ti ho visto a lezione che ti circondi, questi ragazzini. ma non ci circondi, questo non è un'estudente. e ti conto algo? no hai sospettato che c'era un'altra moglie il invento del amor è una delle cose più terribili e dañosas che ha fatto la poesia grazie a tutti